Ciao, benvenuti alla nostra guida per lo smontaggio dei PC portatili AlliWare M15 e M17. Prima di iniziare, leggete attentamente le operazioni preliminari e le informazioni di sicurezza che potete trovare tramite il link nella descrizione dei manuali di servizi online. Se avete il modello AlliWare M17, avrete 12 viti da svitare, mentre sul modello M15 ne avrete 11. Non dimenticate anche le due viti sul retro del portatile. Procuratevi un piccolo cacciavite e un contenitore per le viti per evitare di perderle. Vi facciamo notare che le viti che si trovano verso la parte anteriore del portatile sono tenute da rondelle, quindi quelle non verranno fuori completamente. Prima di tutto, assicuratevi di scollegare la batteria dal sistema tramite il fermo nero sul cavo. E se volete rimuovere completamente la batteria, dovete rimuovere le viti indicate dalle frecce. Se la configurazione del vostro sistema prevede una batteria più piccola, nella stessa area troverete anche il disco fisso. Per rimuovere i moduli di memoria RAM, basta spingere verso l'esterno i fermi metallici e far scorrere la memoria con un angolo di 45 gradi. La stessa cosa avviene per il secondo modulo. Se volete aggiungere nuovi moduli, inseriteli sempre con un angolo di 45 gradi. Assicuratevi che i moduli della RAM siano ben posizionati nello slot spingendoli verso il basso finché non sentite un click. Alla fine, ricollegate la batteria e riavvitatela se l'avete rimossa completamente. Riposizionate il coperchio facendolo scorrere e riavvitate tutte le viti per chiuderlo in modo corretto. Se avete domande o bisogno di supporto, potete sempre iscriverci tramite le nostre pagine social Facebook e Twitter o lasciando un commento qui di seguito. Se vi interessano questi tipi di video, fate like ed abbonatevi al canale. Ciao e a presto!